Un incredibile episodio ha visto protagonista la popolare cantante colombiana durante la sua esibizione in un locale di Miami per la presentazione del suo ultimo singolo Il video, diventato immediatamente virale, ha indispettito non poco non soltanto le migliaia di fan, ma anche tutto il popolo del web Nelle immagini infatti si vede Shakira ballare davanti al pubblico sul palco di un noto locale della città della Florida, per poi fermarsi all'improvviso e tenersi la gonna con le mani La cantante accenna a discutere con una persona in prima fila prima di ricominciare a fare qualche passo di danza, per poi fermarsi del tutto e decidere di scendere dal palco molto infastidita La famosa cantante sudamericana lo scorso anno è stata al centro del gossip per la fine del matrimonio con il popolare ex calciatore spagnolo del Barcellona Gerard Piquet Shakira quindi si è trasferita a Miami da Barcellona con i suoi figli Milan, 11 anni, e sa, 9 anni, proprio dopo la separazione dalla star del calcio non senza le inevitabili ripercussioni e polemiche purtroppo tipiche nello star system Un gesto da condannare.La popolare cantante colombiana Shakira si è riprovata, questa volta suo malgrado, al centro di un episodio alquanto spiacevole che la vista protagonista mentre era sul palco del 54, uno dei più noti club di Miami, intenta presentare il suo ultimo singolo, Soltera, una canzone realizzata in collaborazione con Anita La cantante, mentre stava ballando sul palco davanti al pubblico presente nel locale, si è resa conto che uno dei presenti la stava filmando sotto il vestito e ha deciso così di interrompere la sua esibizione chiedendo, con ampi gesti delle mani, al responsabile di smetterla Shakira ha ripreso poi la sua performance prima di interromperla di nuovo facendo ancora una volta il gesto di tenersi la gonna e, dopo aver nuovamente indicato il responsabile, ha deciso di lasciare l'esibizione e scendere definitivamente dal palco aiutata dal personale della sicurezza Il filmato, come accade sempre in questi casi, è diventato subito virale sul web, scatenando la reazione furiosa dei fan, chiunque stia filmando andrebbe arrestato, un comportamento incredibilmente disgustoso, è un comportamento davvero deludente Gli artisti meritano rispetto e privacy, sia sul palco che fuori È fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutti, scrive un ammiratore sui social Un altro, è incredibile come alcuni ragazzi riescano da soli a trasformare una fantastica esperienza in una vicenda imbarazzante Sono alcuni dei commenti che si leggono online. Subito infatti in tanti hanno espresso solidarietà all'artista per il comportamento davvero deplorevole di cui è stata vittima, ribadendo la necessità di garantire un ambiente di lavoro sano per tutti Non è la prima volta che qualche artista si ritrova al centro di molesti da parte di fan troppo aggressivi, un problema che andrebbe affrontato con bene altra severità Grazie a tutti